55esima edizione della Sagra del Cinghiale a Suvereto, un evento in cui si valorizza il territorio attraverso le sue espressioni più significative. Venerdì si svolgerà il classico corteo storico rievocazione della Carta Libertatis e successivamente domenica prossima vi sarà un'altra giornata ricca di appuntamenti con musica, folclore e spettacoli. La nostra squadra quest'anno è stata veramente eccezionale sia nell'organizzazione che nel realizzare i vari stand che animano la nostra. Vi sono circa una ventina di espositori, ci sono artigiani e in più abbiamo i nostri classici stand dell'ente valorizzazione che sono la K, il Banco dei Ghiottoni, il Banco delle Zonzelle e il Banco delle Castagne Vimbrulè. Un discorso particolare merita il corteo storico di Suvereto perché a differenza degli altri è fatto anche dai popolani. Uno dei più belli è la Toscana. Nel 1201 Suvereto si è reso libero e è stata fatta la Carta Libertatis del primo comune libero dell'Arta Maremma. Un corteo molto ricco con popolani, conti, c'è una parte con i giocolieri, arcieri e abbiamo un corteo bello completo con tutte le tipologie del popolo del 1200.